Giochi di prestigio inclusivi sono quelli proposti dal mago Diego, che impegnato in vari camp estivi della Lombardia, ha deciso quest'anno di coinvolgere nelle sue attività tutti i bambini, anche quelli con disabilità. L'idea è nata grazie all'incontro con Leo, un ragazzino non vedente che insieme alla sorella ha iniziato a frequentare il camp di Lainate, spiega Diego. Mi sono chiesto come poterlo davvero rendere partecipe delle attività, permettendogli di divertirsi proprio come tutti gli altri bambini. Ho visto Leo, questo ragazzo, che durante i laboratori di magia era un po' escluso, gli altri riuscivano a fare dei laboratori proprio fisici, tagliando, pensando, leggendo alcune cose, anche le istruzioni stesse, e ho dovuto pensare a un modo per includere Leo in questo laboratorio. E sono riuscito proprio tramite queste tabelle, facendo dei piccoli buchi, è un nostro codice diciamo, lui praticamente non vedendo sente col tatto quali sono i numeri da sommare di queste tabelle. Adesso non ti sto a spiegare il trucco del gioco, però toccando questi numeri lui riesce praticamente a fare una somma magica e indovina i numeri che la gente pensa, che gli spettatori pensano. Lui è esaltatissimo perché, me l'ha proprio detto, era la prima volta che provava un'esperienza del genere, prima volta che faceva un gioco di prestigio. Questa esperienza mi sta regalando grandi soddisfazioni, dice Diego, e vorrei riuscire ad inventare altri giochi inclusivi per coinvolgere tutti i bambini nel gioco. In vent'anni era la prima volta che facevo una cosa del genere, è stata una soddisfazione grossa anche per me, però sì, assolutamente da ripetere, anzi adesso sarò più stimolato dal trovare degli altri giochi anche semplici da poter fare ai ragazzi con disabilità, non solo magari non vedenti e anche per altre tipologie di disabilità. Una bella storia di inclusione insomma, testimoniata dalla soddisfazione e dalla felicità di Leo. Buongiorno a tutti quanti, do un grandissimo saluto a tutti gli amici di Rete55, a voi. Buongiorno a tutti.